Il GUP del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio un trentenne accusato di omicidio stradale pluriaggravato e lesioni personali stradali gravi per l'incidente avvenuto nella serata dell'11 dicembre 2022 nel barese e in cui persero la vita tre ragazzi di 19, 21 e 25 anni e cioè Sara Grimaldi, Michele Traette ed Elisa Buonsante oltre ad un quarto che rimase ferito. L'incidente tra la Mini One guidata dal trentenne e un bus avvenne sulla statale 96 all'altezza di Modugno. Secondo gli inquirenti l'automobilista provò a sorpassare da destra due auto che lo precedevano e che avevano rallentato per permettere all'autobus di emmettersi nella corsia viaggiando però a 120 chilometri all'ora in un tratto di strada in cui il limite di 50. Nella manovra però la Mini si sarebbe schiantata contro l'autobus e avrebbe finito la sua corsa contro un muro di cemento armato. L'impatto causò la morte dei tre giovani e il ferimento del quarto tutti a bordo della Mini e amici del conducente. Traetta perse la vita sul colpo, le due giovani morirono invece in ospedale. I familiari delle due donne sono assistiti dallo studio 3A. Il legale dell'imputato aveva chiesto per il suo assistito il rito abbreviato condizionato però all'affidamento di una perizia sulla dinamica dell'incidente, istanza che è stata rigettata dal giudice. La prima audienza dibattimentale è fissata per il 3 ottobre prossimo dinanzi al giudice monocratico Mario Mastromatteo.